I margini per ricompattare il centro-sinistra Trinitapoli in vista delle prossime elezioni amministrative ci sono. Sono ristretti quei margini anche per questioni di tempo, ma lasciano aperta la strada ad una lista unitaria ed un solo candidato sindaco. Lo ribadisce l'onorevole Arcangelo Sannicandro, che di fatto non rigetta la proposta dell'ex sindaco Arcangelo Barisciano di fare un passo indietro e quindi ritirare la propria candidatura a primo cittadino, a condizione che si sondi comunque la volontà dei Trinitapolesi, non essendoci più tempo per allestire le primarie. Sannicandro però ha questa ipotesi, rilanciata da Barisciano nel corso della trasmissione Spazio-Città, ci aggiunge un'altra ipotesi, messa sul tavolo da Anna Maria Tarantino, anche lei candidata sindaco del centro-sinistra. Si è vantato di non essere mai venuto al tavolo del centro-sinistra. Mi pare che per la dignità di ognuno la prima cosa da fare è sedersi intorno a un tavolo. Superando tutto ciò, la Tarantino ha detto, benissimo, facciamo la lista, anche perché abbiamo poco tempo, ci mettiamo io e te in lista, mettiamo insieme la lista di 17 persone, poi troviamo insieme lo strumento per indicare chi dovrà fare il sindaco, ma chi perde deve rimanere nella lista. Questo ha detto la Tarantino. Lui a questo appuntamento non si è presentato più per chiarire le modalità. Gli è stato proposto, l'ultima domenica si sono visti nella sezione del PD, lei, il capogruppo del PD e lui. Il giorno dopo, il lunedì, per concretizzare questo, non si è presentato. Poi è venuto in trasmissione e ha detto, sì le primarie in effetti non si possono fare, facciamo un sondaggio. Ma tu non puoi dire in trasmissione, tu devi venire al tavolo del centro-sinistra e chiarire e farci capire questo sondaggio come lo fa, chi lo fa. Messaggio e condizioni, insomma, sono chiare. Se accordo ci deve essere per ricompattare il centro-sinistra, lo si raggiunga nelle sedi politiche opportune e in tempi brevi. Così la prossima settimana, a giudizio di San Nicandro, diventa decisiva. Lui scende in campo, perché? Dopo aver sostenuto la Tarantino per tanto tempo, perché? Cioè badate la Tarantino, non è che la sostrevo io. Io facevo il discorso nell'interesse di Selle. Ma chi invece ha puntato sulla persona, premendo sulla segreteria locale del PD, premendo sulla segreteria provinciale del PD, si chiama Arcangelo Bariciano, perché la Tarantino è la capogruppo della sua corrente in Consiglio Comunale. E il PD ha rinunciato alle primarie, ha rinunciato a proporre una propria candidatura, proprio perché dice la tua capogruppo credo che sia il massimo che tu possa ottenere, ma non gli è andata bene neanche la sua capogruppo.